impresa zebre ieri dopo ventitré tentativi al ventiquattresimo le zebre battono monster la red army ragazzi è storico quello che è successo ieri alle zebre e allora crotch bind benvenuti cari amici del canale d'ampatragvi parliamone un po assieme perché sì allora innanzitutto ovviamente chi segue il canale già lo sa perché lo avevo annunciato ma mi scuso perché ieri non ho potuto fare né la live delle zebre gli scaramanti ci direbbero vabbè allora danilo se il risultato è questo non farle più per piacere no non siamo scaramanti ci siamo appassionati di rugby e basta e ma e poi non sono riuscito a fare nemmeno ovviamente il commento a caldo non avendo fatto la live né delle zebre né della nazionale femminile e perché semplicemente perché ero in viaggio ero in viaggio dall'italia alla spagna oggi sono tornato qui o il mio angolino ditemi se vi piace più l'angolino o i virtual screen con lo stadio alternerò un posto sto sperimentando un po di cose comunque ragazzi allora però vale la pena vale la pena di raccontare quello che è successo ieri a lanfranchi perché quello che è successo ieri a lanfranchi è storico è assolutamente storico intanto sta voce mi schierisco un po la voce eccoci qui allora quello che è successo ieri a lanfranchi è storico è un'impresa è una di quelle partite che ti fanno emozionare e ti fanno venire la pelle d'oca allora vi dico come l'ho vissuta io intanto è io ho mi sono visto un pezzo del primo tempo avete presente quando passate il check in e non il check in quando già siete al gate siete in coda al gate poi entrate passate il gate passato il controllo passaporti entrate in quella specie di tubo di tunnelone che ti porta all'aereo e poi mentre metti la valigia sul come si chiama sulla cappelliera si chiama mentre metti la valigia sulla cappelliera ti siedi fai giri fai passare la gente che si deve che si deve sedere a fianco a te mi stavo guardando un po la partita e poi ovviamente lì la connessione internet non è un granché e quindi seguendo un po il live scove sia delle zebriche della nazionale allora e e quindi ho dovuto spegnere il telefonino alla fine del primo tempo adesso poi ve lo racconto un po meglio no però e poi immaginate insomma quando l'ho riacceso eh la mia sorpresa il mio stupore e la mia gioia allora partiamo dal ehm partiamo dall'inizio però perché oggi proprio perché questa è un'analisi del giorno dopo eh seppur non sarà un'analisi tecnico tattica così approfondita però voglio un po raccontarvela questa partita anche con un nuovo format che poi mi direte se vi piace allora iniziamo dalle formazioni le formazioni delle zebre le zebre che scendevano in campo con Fischetti capitano dal primo minuto di Bartolomeo no c'era Canali Krumov erano le seconde linee Ruggeri Locatelli Licata poi diremo una parola per alcuni di questi giocatori però fatemene dire una subito per Locatelli perché ha avuto un impatto su queste zebre clamoroso eh clamoroso intanto si è preso subito la titolarità lui che non era nemmeno detto che venisse eh confermato a pieno in rosa invece sia nelle partite pre nelle amichevoli sia poi nella prima con Cardiff e ieri insomma eh si è dimostrato un giocatore serissimo quindi complimenti al l'ex MVP della serie Elite vediamo se ogni anno ne vengono fuori perché il l'anno scorso abbiamo avuto Spagnolo Stavile eccetera soprattutto Spagnolo poi per quello che ha fatto a a livello per arrivare fino alla nazionale e quest'anno insomma è l'anno di Locatelli punto di domanda siamo solo all'inizio eh non facciamoci troppo emozionare però va segnalato assolutamente poi la mediana la mediana con un ritrovato Fusco ve lo anticipo MVP della partita doppietta grandissima prestazione di Fusco dopo anche qui ne parliamo un po' più nel dettaglio così come viene data fiducia a Montemauri eh Montemauri che non aveva fatto una grandissima prestazione contro Cardiff però interessante la scelta di dargli fiducia di Brunello e poi Morisi Gregory tra l'altro qualcuno mi dice se Lucchin è infortunato perché ho letto che Gregory è entrato al posto di eh Bertaccini che ha avuto un infortunio all'ultimo minuto però ehm all'inizio io mi immaginavo una coppia di centri eh Lucchin Morisi eh e invece credo che Lucchin cioè non stamattina mi sono dimenticato di cercare non avevo letto particolari notizie però forse me lo sapete dire voi ehm triangolo allargato Gesi trulla Prisciantelli quindi insomma ragazzi di nuovo Zebre con quattordici giocatori su quindici azzurrabili credo che Prisciantelli sia azzurabile anche lì non ne sono sicuro al cento per cento però insomma l'idea dovrebbe essere quella e e uno Scott Gregory che l'anno scorso aveva un po' deluso anzi anche più di un po' e invece anche lui si porta a casa una bella bellissima prestazione veramente bella la partita la prima volta che vediamo una bella prestazione di Scott Gregory ehm in ehm in maglia Zebre ovviamente invece dall'altra parte dall'altra parte eh no dall'altra parte ancora prima dell'altra parte la panchina era Ribaldi Rizzoli Pittinari Zambonin Ferrari Baronio Paea da re e vedremo che poi alla fine avranno tutti il loro ruolo eh se andiamo a vedere invece la re d'armi bene eh la re d'armi di Glasgow scendeva scendeva in campo così aspettate che devo spostarmi ecco qua perfetto la re d'armi di Glasgow scendeva in campo con Wickerly, Baron, Jager, Klein, Wickerly, Quinn, Hodnet e Kumbis al numero otto, Casey e Butler e il la mediana mentre la coppia di centri era formata da Farley e Daily, Nash, Abrams, mamma mia tra l'altro Abrams all'inizio veramente un folletto l'abbiamo visto e Hailey a chiudere la formazione al numero quindici con una panchina formata da qua mi devo spostare sempre perché se no non mi vedo non vedo formata da Wickerly, Baron, Jager, Klein, Wickerly eh no hanno messo perché hanno messo lo starting five dove invece dovevano mettere la panchina vabbè allora la panchina la panchina la saltiamo andiamo andiamo avanti e iniziamo a parlare della partita dopo le formazioni ragazze ragazze e ragazzi zebre che da subito ehm con la testa nella partita allora la sensazione che io ho avuto perché poi me la sono rivista tutta ieri eh fino a luna di notte sono stato a rivedermi la partita la la sensazione è stata quella che le zebre ci fossero subito con la testa nella partita ed è per quello che vi faccio vedere quest'immagine con quest'uscita da fuori verso dentro di Locatelli abbiamo parlato prima di Locatelli bene ehm qui si vede che legge bene un'azione di pullback pass di passaggio dietro da fuori verso dentro va a chiudere le fonti del gioco del di Munster in maniera che non possa parlare passare la palla fuori poi qui commette un avanti nel placaggio però eh non importa quello che voglio far vedere io qui è comunque la lettura ossia le zebre sono entrate dal primo minuto dal minuto zero con la testa nella partita e questo è assolutamente quello che poi ha portato secondo me alla vittoria finale ehm andando avanti vediamo una 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 scena divertente perché vabbè poi le zebre vanno in vantaggio con Montemauri e poi dopo ci prova anche Trulla e la scena divertente e Olly Davidson che si occupa personalmente si abbassa di far rotolare la palla qualche metro indietro dico divertente perché di solito insomma eh no l'arbitro dice piuttosto al giocatore va indietro quattro cinque metri e invece non l'ha visto mentre c'era Trulla che sistemava il calzino ha detto sai cosa invece di perdermi mille storie che pensemi che pensemi e li porta il pallone indietro vabbè al di là di questi piccoli di questi piccoli dettagli che però spero siano apprezzati nel rivivere un po' la partita al diciassettesimo arriva sempre appunto da parte di Olly Davidson una chiamata molto severa Olly Davidson eh fischia un'uscita rallentata dalla racche sui cinque metri delle zebre con una palla che onestamente sembrava uscire con timing normalissimi anzi forse addirittura più veloce di tantissime di quelle che si vedono in giro ogni giorno lì io dico lì Davidson voleva un po' set the standard cioè voleva che poi durante la partita non si verificassero da entrambi i lati questo tipo di chiamate il problema è che quando lo fischi sui cinque metri diciamo che è pesantina è pesantina va bene da lì nasce poi la prima meta di monster con con bis e subito dopo però le zebre allora il telecronista del delle zebre a un certo momento dice zebra are very confidence in what they are doing o qualcosa del genere ed è appunto le zebre sono proprio confident e fanno un'azione spettacolare con morisi che vada a tirare la pressione alla brex interessante questa funzione di primo centro di morisi che va a fare appunto il nacio brex delle zebre fatemelo dire in attesa di quello del benetton mette la palla fuori per montemauri che ha tempi e spazi perfetti in quell'azione apre per prisciantelli a largo e trulla in the corner trulla che poi si esibisce in un nuovo balletto che vabbè se gioca come oggi raga li perdoniamo anche sti palletti un po così ma rivedibili rivedibili e poi a entra in gioco fusco entra in gioco fusco oggi veramente ieri anzi autore di un'ottima partita e di due splendide mete avevamo detto che doveva questo essere il suo anno non so se vi ricordate il ragionamento che avevo fatto nel video di presentazione della rosa delle zebre ebbene proprio ieri davanti a che sada in tribuna timbra il cartellino del men of the match qui trova uno spazio che 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 vede che vede solo lui lo lo vedete nel nello schermo come ci sia la guardia solo che lui vede un mismatch non ha paura di andare ad infilarsi e le zebre sono a più otto anche brunello sembra bello sul pezzo qui si arrabbia per esempio dopo un errore sul kickoff in ricezione e senza senza far paragoni alla seconda di campionato non facciamo quelli che fanno i paragoni tiago molto allegri ma è che a proposito se vi piace anche il calcio seguite il mio secondo canale d'unpat calcio anzi mi fareste proprio un piacere perché è appena nato e lo voglio spingere in avanti ma torniamo al rugby e allora senza fare paragoni alla seconda di campionato ma è chiaro che brunello almeno nel percepito nel percepito poi che cosa si muove dentro la gente lo sanno solo loro però almeno nel percepito ha un carattere un po' più intenso no rispetto a un roselli che era un po' più serafico uomo molto equilibrato almeno ripeto restiamo sempre nel percepito nella maniera di far vedere le emozioni e poi ci sono gli ultimi dieci minuti del primo tempo che ci fanno pensare che alla fine sì e così io più o meno chiudo il mio telefonino in prima di decollare da venezia verso barcellona ultimi dieci minuti nel primo tempo che ci fanno pensare che alla fine sì tutto bello tutto ok ma sarà il solito copione no il solito sedotti abbandonati mi viene da dire quante volte abbiamo visto questo copione con le zebbre negli ultimi due anni perché arrivano tre mete di monster in sequenza al trentesimo al trentatresimo al quarantesimo e si va negli spogliatoi sotto di tredici quindi da più otto ci ritroviamo a sotto di tredici con monster che si garantisce già nel primo tempo il punto di bonus quindi lì io immagino io appunto ieri non ho visto in presa diretta la partita ma immagino i commenti ecco le solite la solita difesa la solita cosa però rivedendo la partita secondo me si intuiva che qualcosa sarebbe potuto succedere e allora io spengo appunto il telefonino in aereo pensando di riaccenderlo e vedere una sconfitta mettiamo di una trentina di punti dai e invece lo riaccendo e vedo decollo al prato atterro al prato di barcellona lo riaccendo anzi non aspetto sapete come si accendono subito i telefonini per la curiosità e non a te e vedo zebbre 42 monster 33 zebbre 42 monster 33 e allora tornando con la metro corro a vedere come sia successo e resto letteralmente estere fatto wow wow resto letteralmente estere fatto e che cosa vedo allora intanto vedo che le zebbre hanno segnato sei mete al monster che le zebbre hanno segnato sei mete al monster e resto veramente appunto estere fatto ripeto lo ripeto perché sono frasi che non è che pronunciamo spesso lo anzi lo scandisco adesso le zebbre hanno segnato sei mete al monster le zebbre hanno segnato sei sei mete al monster e come beh allora andiamo a vedere perché il prima arriva con un intercetto in salto a due mani di un trulla portiere per andare a intercettare questa questa palla trulla che tra l'altro appunto assieme a fusco e assieme a locatelli sono probabilmente stati i migliori tre giocatori delle zebbre poi tantissimi tutti hanno giocato bene tutti hanno giocato bene perché se no non queste partite non si vincono però insomma diciamo che questi tre poi ci metto dentro l'icata ci metto dentro fischetti ce ne sono ce ne sono anche altri e clamorosamente ci metto meno dentro gesi che ha fatto la sua bella prestazione alla fine lo si vede in sostegno eccetera eccetera però non è in una partita così sei mete tu dici bene un paio le ha segnate gesi invece invece no e questo è una notizia secondo me addirittura positiva perché ovviamente le zebbre dell'anno scorso dove segnava sempre gesi e segnava solo gesi erano un discorso magari panni invece queste zebbre senza panni e con un gesi ancora con grossi margini di miglioramento potrebbero veramente farci divertire parecchio 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 quindi la meta appunto di trulla poi ne arriva un'altra con no volevo dire capitano l'icata non è più il capitano e forse anche perché no sgravato da quel da questo ruolo per forma in campo anche se l'icata ha sempre fatto bene anche l'anno scorso arriva la meta di ex capitano l'icata e poi l'altra magia di fusco fusco che passa letteralmente attraverso le pareti avete presente ghost vi ricordate quel film con demi more un po di anni fa c'erano dei tipi che saltavano da una metropolitana all'altra questo è fusco cavolo lui passa attraverso le pareti attacca la guardia del rack e dentro e poi infine prisciantelli con trulla che esulta e aspetta mettiamo qua mettiamoci sotto perché perché l'ho cerchiato con trulla che esulta mezz'ora prima tipo steph curry quando steph curry mette le triple si gira e fa vedere il tre e ancora prima che la palla entri dentro che che faccia un bel ciuff bene la stessa cosa fa trulla che consegna questo pallone a prisciantelli prisciantelli va a correre in meta e trulla esulta ed è show time show time ragazzi qualcuno adesso i più bacchettoni diranno non si esulta mai prima di aver segnato ed è vero ci sono dei casi in cui poi ci sono dei clamorosi eh fail però questi ragazzi devono divertirsi devono sentire il flow della partita e allora concediamoglielo permettiamoglielo anche quando quando fanno i balletti le esultanze la seconda meta di trulla andrà a fare la mitragliatrice insomma va bene così va bene così e e poi un po' di thriller nel finale perché nel un po' di thriller nel finale perché arriva alla meta di monster del meno sei però poi le zebbre ne hanno ancora nel serbatoio perché anche chi è entrato dalla panchina dà il suo ottimo contributo e allora la chiude pitinari nella maniera più bella con un grillo talpa con una pescatona finale poi jack dare metterà anche gli ulteriori tre che tolgono tra l'altro il punto di bonus difensivo a monster che tornerà a casa con un solo punticino di quel bonus offensivo che si era che si era che aveva ottenuto che mi sono incastrato che si era procurata mi è arrivata che si era procurata già nel primo tempo le zebbre invece di punti se ne portano a casa cinque che si sommano al punto ottenuto con la benetton eh l'anno la mamma mia sono mi sono rincretinito allora con il punto ottenuto con cardiff eh che portano le zebbre appunto a sei punti con una benetton che invece ha due punti quindi anche qui alla seconda giornata ovviamente è inutile fare paragoni però magari credo che per le zebbre guardare quella classifica così lo so sono solo due giornate un po' come il mio torino che è primo in classifica eh dopo cosa sono quattro cinque giornate sono poche non resterà fino alla fine però insomma guardare quella classifica fa bene guardare quella classifica fa bene non bisogna esaltarsi e chi sembra che non si esalti è Brunello guardate questo sguardo e lo sguardo secondo me è di un allenatore che sa di aver fatto un'impresa una delle varie che ha fatto nella sua carriera ricordiamo comunque il suo percorso in under 20 ed è un allenatore che sa che di queste giornate se si lavora bene ce ne potrebbero essere altre non dico tantissime perché se andiamo a vedere poi i punti delle ultime tre stagioni ovviamente eh e abbiamo già vissuto delle storie del genere tipo con gli sharks l'anno scorso eccetera eccetera non tantissime ma sa e vuole che ce ne siano altre felice ma sereno tra l'altro poi lo si vede scendere dalle scale dalla scalinata lì dello stadio tranquillo sereno sono sicuro che negli spogliatoi il discorso di Brunello sarà stato un discorso volto quasi a rassenerare rasserenare gli animi a far credere i ragazzi così la butto lì eh poi io in quello spogliatoio non c'ero ma a far credere ai ragazzi di quello che possono fare cioè sarà sicuramente stato un discorso bello ragazzi abbiamo vinto ma adesso bisogna dare continuità a questa cosa qui eh e sappiate che questo è quello che voi potete fare addirittura con margini di miglioramento e noi ovviamente ci vogliamo credere che ci sia stato non ci sia stato questo discorso perché questo è un po' il succo di quello che si è vissuto che si è vissuto ieri allora prima di chiudere due numeri eh due numeri a livello di statistiche ehm abbiamo vabbè le mete il possesso possesso 50 e 50 i clean breaks aspettiamo cambiamo un attimo la grafica vediamo se riesco a metterlo così sì i clean breaks sono 8 a 5 i difensori battuti sono mi sono allontanato 19 a 18 gli offloads ci sono tanti numeri che parlano di una partita anche abbastanza equilibrata se si vuole però c'è un numero che spiega la partita c'è un numero che più di altri spiega la partita ed è quello dei turnover vedete i turnover vinti 8 a 1 per le zebra che cosa significa? Significano che le zebra era una squadra che ieri voleva il pallone voleva il pallone per fare cosa? Per divertirsi e allora per divertirsi e divertire e allora queste sono esattamente le zebra che noi vogliamo vedere ehm zebra che hanno voglia anche perché no di fare il balletto di fare l'esultanza di fare di prendersi qualche piccola rivincita eh di crederci sono un gruppo giovane sono un gruppo italiano e sono un gruppo che se ripeteranno delle prestazioni come quelle di ieri perché no ci emozioneranno quest'anno l'idea ieri ci hanno fatto in qualche maniera ehm pregustare quella che potrebbe essere una stagione diversa una stagione particolare io quando ho fatto la prediction ho messo le zebra penultime e ho messo le treviso sesta eh beh è chiaro che la percezione di ieri è quella che ho un po' sottovalutato le zebra e forse un po' sopravvalutato il Benetton i conti si fanno alla fine siamo alla seconda giornata di un campionato che comunque non è lunghissimo nel senso che è comunque un campionato di 18 siamo alla seconda giornata c'è c'è ancora tutto l'anno davanti però la vittoria di ieri conta così come conta ogni punto perso per strada e qui il mio pensiero va di più all'altra squadra a quella a quella per cui faccio il tifo al Benetton allora ehm niente per riassumere io direi che abbiamo visto delle zebra leggere leggere nella testa ma determinate ricordate quel less is more che avevo detto quando avevo analizzato e valutato la rosa delle zebra bene forse è vero perché queste zebra quasi al 100% italiane si sono un po' liberate da alcune zavore che per carità è anche brutto chiamare in alcuni casi zavore ma alcuni giocatori stranieri che a volte forse appesantivano anche un po' il processo e anche un po' la testa di dei ragazzi che invece sono molto convinti e determinati e si potrebbero auto retroalimentare l'un con l'altro zebra che vogliono stupire oggi ci sono riuscite ovviamente come dicevamo prima adesso la grande scommessa continuare a fornire prestazioni non per forza risultati arriveranno anche quelli ma prima di tutto prestazioni nel tempo la prossima è in casa con gli stormers non si pretende ovviamente che le vincano tutte gli stormers sono un avversario complicatissimo ma davanti a un lanfranchi che sarà sicuramente un po' più pieno perché le vittorie aiutano a portare la gente qualcuno che ieri è stato lanfranchi dirà qualche amico ma sai che mi sono proprio divertito un casino e allora perché no davanti a un lanfranchi che sarà sicuramente un po' più pieno mi raccomando andateci la settimana prossima dopo la partita di oggi l'obiettivo è continuare a stupire continuare a crescere mantenendo lo spirito di questa indimenticabile giornata ragazzi ditemi che cosa ne pensate nei commenti mi raccomando iscrivetevi al canale commentate mettete like tutto aiuta proprio per la crescita di questo progetto per il resto vi mando un grande grandissimo bacio e ci vediamo in settimana con i prossimi video ciao